Non ce l'ha fatta Biagio Fiorella, il cuore del sedicenne ha smesso di batteri ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta in moto. Biagio lo scorso 28 agosto, alla vigilia del suo sedicesimo compleanno, era in moto con il fratello maggiore. I due ragazzi di San Biase, piccola frazione di Ceraso, stavano rientrando a casa quando il mezzo, in via San Sumino, è uscito fuori strada andando ad impattare contro un muro. Le condizioni di Biagio sono apparse subito gravissime, il ragazzo è stato per otto giorni in coma irriversibile, non si è mai svegliato fino al tragico epilogo di ieri sera. Gli amici da giorni stavano affollando i corridoi dell'ospedale, insieme ai familiari dei due ragazzi hanno vissuto un incubo, dal finale ancora più tragico. Aspettavano di rivedere il piccolo Biagio in mezzo a loro, purtroppo il sedicenne non ce l'ha fatta. Nel giorno del suo compleanno, nello spazio antistante al San Luca, gli amici avevano anche sistemato un megastrescione, con una frase di speranza per il loro guerriero. Bià, siamo tutti qui a fare il tifo per te, piccolo guerriero, combatti la tua battaglia, non sei solo. Biagio purtroppo è volato in cielo, non tornerà più tra i suoi amici. Il drammatico incidente si è verificato a pochi passi dal centro del paese, i due fratelli Fiorella, Biagio di 16 anni e Sabatino, poco più grande, sono stati sbalzati violentemente al suolo. Ad avere la peggio, proprio il più piccolo, entrambi i fratelli viaggiavano senza casco, sono stati portati subito in sala operatoria, il più piccolo è arrivato in condizioni disperate. Nell'impatto aveva riportato un brutto trauma cranico, l'altro gravi lesione alla milza, ma non è stato mai in pericolo di vita. Entrambi sono risultati positivi al test per l'assunzione di droghe. I carabinieri di Vallo, al comando del capitano Mennato Malgeri, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Probabilmente il mezzo, che era senza copertura assicurativa, è sbandato a causa dell'alta velocità. I tanti amici sono al fianco dei genitori in questo grande momento di dolore, non vogliono e non possono credere che il loro angelo non tornerà più a casa.